Presidente, che Challenger sarà quello di Olbia la seconda edizione? Dopo il grande successo della prima ci aspettiamo una conferma dalla seconda edizione dell'Olbia Challenger. Vedremo in campo le giovani promesse del tennis di domani affiancate a dei giocatori di esperienza a caccia di punti per risalire la classifica. Ci aspettiamo un bello spettacolo. Nell'anno magico del tennis italiano Olbia ospita la seconda edizione del Challenger da 125.000 euro e dopo Cagliari si attesta tra le città che almeno per una settimana mettono al centro lo sport di Sinner. Chiusa la entry list nel centrale di Olbia si giocheranno il Montepremi, tennisti italiani e internazionali di tutto rispetto. Nella entry list i nomi di rilievo per il pubblico italiano sono Andrea Vavassori, Davisman che abbiamo apprezzato qualche giorno fa nelle qualificazioni per la corsa a Malaga, ma anche Joao Fonseca che è un giovanissimo diciottenne di cui sentiremo molto parlare in futuro e in predicato di essere tre primi dieci del mondo. Tra gli italiani da notare anche gigante e nelle qualificazioni che saranno la fase iniziale del torneo anche Jacopo Berrettini, il fratello di Matteo Berrettini. La macchina organizzativa del Tennis Club Terranova sta mettendo a punto gli ultimi dettagli e i tecnici sono impegnati a dare le dritte a coloro che si occuperanno del supporto agli incontri mentre grande attenzione è rivolta al pubblico. L'anno scorso siamo stati invasi da più di 7500 persone all'arco della settimana. Per noi è stata una bella invasione, una invasione allegra. Quindi oggi, quest'anno, stiamo cercando di capire come rendere il circolo ancora più accogliente per gestire questo grosso flusso di spettatori che ci auguriamo sia confermato e magari perché non aumentato.